Cane al mare, seconda parte. Vuoi vedere la prima parte di questo video? Vai sul mio profilo e clicca segui. Quando invece decidi di farlo entrare in acqua e quindi di fare il bagno insieme a lui, anche qui due accortezze. La prima è la distanza da quando lui ha mangiato e la seconda se vuotare con lui oppure rimanere fuori. Prima di tutto porti il cane a nuotare quando è a digiuno o perlomeno a digiuno da 3-5 ore. Non è possibile saperlo prima perché dipende dalla velocità di svuotamento dello stomaco di ogni singolo soggetto. Quindi se lo sai perché il tuo veterinario ha fatto delle indagini, bene. Altrimenti, come regola generale, da 3 ore a 5 ore di digiuno tendenzialmente i cani hanno lo stomaco vuoto. Oppure, se per caso lo porti a nuotare alla mattina molto molto presto, digiuno dalla sera prima, poi torna a casa e farà la colazione. Se invece è a digiuno da poche ore, quindi da 3-5 ore, quando esce, che è asciutto, che è sciacquato, tutto a posto, poi dargli la merenda. Questo reintegra proprio l'energia persa durante il nuoto e aiuta moltissimo a recuperare. Ma nuoti vicino a lui o lontano da lui? E se nuoti lontano da lui, che cosa conti di fare? La cosa più importante è che lui rischia sempre di avere dei crampi. Soprattutto perché se non gli piace nuotare può non essere esperto e quindi non essere allenato. Se gli piace nuotare può esagerare. Alcuni cani cacciano l'acqua, cioè con le zampe sollevano gli schizzi d'acqua e poi con la bocca cacciano, cercando proprio di prenderla, come se fossero delle prede. Questo però è automotivante e carica a mille i cani che possono rischiare dei crampi. In questo caso ricordati che esistono i salvagenti. Hai visto i reel di Maitri in piscina? Ecco lei, porta salvagente per esempio. E tu porti il tuo cane al mare? Fammelo sapere qui sotto nei commenti.